La casa dello studente dell'Aquila era un castello di carte, un edificio pericoloso ad altissimo rischio crollo in caso di terremoto, come poi fatalmente avvenuto la notte del 6 aprile 2009, causando la tragica morte di otto studenti. E nessuno dei professionisti avvicendati a restaurare l'edificio costruito nel 1965 ha predisposto interventi di consolidamento necessari, agito per garantire la sicurezza di chi ci viveva. Queste in sintesi le motivazioni della sezione penale della Suprema Corte, che ha confermato ieri sera a Roma, in via definitiva, le quattro condanne a quattro anni di carcere per Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Berardino Pace, tecnici del restauro alla struttura eseguito nel 2000, e a due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani, tecnico dell'Azù e presidente della commissione di collaudo. I reati sono quelli di omicidio colposo, disastro e lesioni. Alla lettura della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante Rocco Blaiotta, scene di commozione soprattutto tra i familiari delle vittime presenti in aula e fra gli avvocati di parte civile. Ma la sentenza ha colto di sorpresa anche quanti erano convinti che le tesi della difesa potessero avere successo. Le difese infatti avevano chiesto, tra le altre cose, di dichiarare il reato estinto per prescrizione, dal momento che, secondo loro, i termini sarebbero scattati da quando sono avvenuti i lavori contestati nelle accuse, quindi dal 2000. Passaggio decisivo alla relazione del giudice Daniele Cenci, che ha citato ancora una volta ampi stralci della relazione tecnica del perito del GUP, la professoressa Gabriella Mulas. Il terremoto del 6 aprile, ribadito Cenci, non poteva da solo costituire la causa del crollo, determinato invece anche dalle gravi deficienze strutturali e da plurimi elementi di appesantimento dopo i vari interventi di ristrutturazione. Inoltre gli edifici intorno, non a caso, sono rimasti in piedi. E, aggiunto Cenci, sarebbe stato sufficiente leggere anche solo la prima pagina del progetto del 1965 per capire che l'edificio, così come era progettato, non poteva garantire la sicurezza. Toccanti al termine dell'udienza le parole di Lilli Centofanti, che nel crollo ha perso il fratello Davide. Non è morto andando in guerra, non è questa l'università, è morto facendo il suo dovere e non è giusto. E' aggiunto Anna Maria Cialente, mamma di Francesco Esposito, altra vittima. I nostri ragazzi non ci sono più, il dolore rimarrà tutta la vita, non c'è somma che ce li riporterà a casa, ma almeno hanno avuto giustizia, ha detto asciugandosi le lacrime. Guardi, fino a quando non si leggono tutte le carte nella loro inderezza, farsi idee sarebbe il più grosso errore che ci può essere sulla faccia della terra. Così Antonio Di Michele, avvocato difensore di Giovanni Imparato, capo del settore legale, di fatto il numero due dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, arrestato il 10 maggio, ora ai domiciliari, per un presunto passaggio di mazzette finalizzata ad ammorbidire un contenzioso fiscale e che oggi è stato ascoltato nel Tribunale dell'Aquila dal PM della Direzione Distrettuale Antimafia, David Mancini. Attesa per oggi anche l'interrogatorio dell'altro inquisito arrestato, il commercialista di formia Paolo Lavalle, consulente tributario della società Cross Città Mercato. L'attività investigativa ha interessato l'operato di Imparato, nei suoi vestiti funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nei riguardi della Cross Città Mercato, società gravata da un pesante contenzioso tributario, da ben 38 milioni di euro. In particolare, nella mattinata del 19 aprile scorso, le Fiamme Gialle e Pescaresi hanno filmato a Roma un incontro tra i due indagati, immortalando la consegna al pubblico funzionario da parte del commercialista Lavalle di una busta contenente 15 mila euro. Una mazzetta, secondo l'accusa pagata per pilotare, a favore del contribuente, il pesante contenzioso e per interrompere l'azione di pignoramento già intrapresa da Quitalia sui beni della società. Ipotesi del resto rafforzata da un'intercettazione ambientale, in cui Imparato esclama «un milione a me spetta, io semino sempre e poi raccolgo quando si raccoglie». E ancora, «sai quanto vale questo scritto che ho fatto io? Sono 38 milioni e un milione spetta a me». L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che si costituirà a parte civile, a tutela della propria immagine, nell'ipotesi in cui venisse estaurato il procedimento penale. Arrivano oggi in prima commissione bilancio della Regione ben tre proposte di legge che prevedono la riduzione di vitalizie e indennità ed anche, addirittura, la cancellazione secca del doppio vitalizio per consiglieri ed ex consiglieri. Due progetti di legge sono a firma del Movimento 5 Stelle, la terza, più soft, a firma dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle propone, con un primo PDL presentato da mesi, la drastica riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali e la riduzione dei vitalizi ancora in essere, che costano ai contribuenti, 4,2 milioni di euro l'anno. Con una seconda proposta, ispirata da una legge già approvata nella Toscana, il Movimento 5 Stelle prevede poi addirittura la cancellazione to-cour del doppio vitalizio per chi è sia ex consigliere che ex parlamentare. No, non è un diritto acquisito e in più ci sembra giusto che chi gode di doppio vitalizio, ovvero perché ha lavorato in differenti sedi istituzionali, scelga il vitalizio che preferisce. Non vedo motivi per un'accumulabilità che tra l'altro sulle pensioni non c'è. Allora, la nostra proposta per il dimezzamento dello stipendio prevede che ci sia una decurtazione consistente, in realtà non si tratta di un vero e proprio dimezzamento to-cour, ma comunque sia la realtà che poi il netto sarà la metà di quello che attualmente prendiamo. Crediamo che probabilmente non sarà accolta dal Consiglio regionale perché è una proposta che sostanzialmente penalizza un po' tutti. Questo però è un passo fondamentale per quello che riguarda l'equità sociale. Più mite invece la proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sostenuta da maggioranza di centro-sinistra e opposizione di centro-destra e che propone la riduzione del 10% di tutti i vitalizi per un periodo di tre anni a titolo di contribuzione alla grave crisi economica, con una maggiorazione del taglio fino al 50% per coloro che godono anche di un doppio vitalizio. Momenti diversi per Teramo e l'Aquila. Se i biancorossi possono pensare al futuro, l'Aquila prepara il play-out che vale la stagione. A Teramo la vicenda delle ultime ore è quella legata alla permanenza, o meno del tecnico Vincenzo Vivarini. Ieri l'incontro tra le parti, la presenza del procuratore e dell'allenatore Libertazzi, del DG Scacchioli e del DS Inpectore Lupo. Un faccia a faccia lungo ma non risolutivo. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. Sul piatto diversi nodi. Da un lato la gestione tecnica ed un'intesa da trovare tra l'allenatore Diari e il nuovo direttore sportivo sulle strategie future nell'allestimento dell'organico. Dall'altro la questione economica, con l'ultimo anno di contratto di Vivarini che la società vuole spalmare su due anni, prolungando così l'accordo col tecnico fino al 2018. La sensazione è che questi due nodi non siano facilmente superabili e che il ciclo tecnico legato a Vivarini possa essersi esaurito. Ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e ulteriori previsioni difficile farne. Intanto su Vivarini c'è l'interesse del Matera, mentre Fulvio Pea resta in pole position per un'eventuale successione. L'Aquila ha ancora una decina di giorni per preparare il play-out d'andata del Fattori contro il Rimini del prossimo 21 maggio. Dopodomani i rosso-blu effettueranno un test contro la Berretti. Il tecnico Carlo Perrone deve fare i conti con le assenze praticamente certe del difensore Sanni e del centrocampista Bulevardi che salteranno il play-out. Al pari di San Domenico, fuori per squalifica, a meno che non vada a buon fine il ricorso presentato dallo stesso calciatore. Nel caso tornerebbe per il retour match di Rimini. C'è molta fiducia circa la disponibilità di Pesoli e Maccarrone? Se così fosse sarebbe ipotizzabile anche la difesa 3, con i due giganti ad agire ai fianchi di Cosentini. Proseguono un lavoro differenziato gli attaccanti Perne e De Sousa, ma, salvo complicazioni, anche loro saranno disponibili per il play-out d'andata. Venerdì 13 maggio, l'Aquila si tinge di rossa per il passaggio della settima tappa del Giro d'Italia 2016. La corsa prenderà il via da Sulmona per giungere a Foligno. I corridori scaleranno le volte di Popoli, attraverseranno poi la piana di Navelli e arriveranno all'Aquila percorrendo la Bazzanese. Attraversato il cuore della città, la carovana proseguirà lungo la strada statale 17, quindi il passaggio da Coppito, poi Vigliano, Sella di Corno, la discesa verso Antrodoco, Rieti, Terni, raggiungendo infine Spoleto e Foligno. In particolare, il percorso di gara nel territorio del comune dell'Aquila comprenderà la strada statale 17, lato San Gregorio, via Girolamo da Vicenza, il circuito di Collemaggio, viale della Crocetta, via Blneto-Cencioni, via Panella, viale della Croce Rossa, viale Corrado IV e la strada statale ancora 17, stavolta direzione Rieti. Considerando che l'ingresso nel territorio comunale della corsa è previsto per le ore 13.15 circa, l'interdizione alla circolazione delle strade interessate andrà dalle ore 11 alle ore 14.30. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha annunciato per l'appunto che venerdì resteranno chiuse le scuole di ogni ordine grado per motivi di ordine pubblico, commentando poi il passaggio del Giro d'Italia all'Aquila. Quella di venerdì, spiega il sindaco, sarà una bellissima giornata di feste di colore nel nome dello sport e del sano agonismo. Già dalle ore 9.30 nel parco Polzinelli, di fronte alla questura, in attesa del passaggio della corsa, prenderanno il via una serie di iniziative che vedranno l'esibizione della banda, della scuola media Patini e degli sbandieratori del gruppo storico Città dell'Aquila. Invito pertanto, conclude il sindaco, sia i ragazzi che le loro famiglie a partecipare numerosi e a salutare tutti insieme i protagonisti di questa bellissima avventura che è il Giro d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.